Il CIP di Chieti Luca Deninis ha rivelato un'incompetenza territoriale dalla Procura Tiatina per l'inchiesta sulla maxifrode fiscale scoperta un mese fa perché la base operativa della truffa, secondo quanto emerso dalle indagini, era in Campania. Disposta così la trasmissione degli atti da parte del sostituto procuratore e dell'autorità giudiziaria per Trenopea, anche la luce di un precedente procedimento del giugno dello scorso anno per episodi che coincidono con quelli riscontrati a Chieti. Questo sarebbe emerso in particolare dagli interrogatori di garanzia di Renato De Luca, uno degli ideatori della truffa insieme a un altro partenopeo, Michelangelo Maffei, con il quale avrebbe messo in piedi un'organizzazione capace di ottenere rimborsi per compensazione aggirando i controlli dell'Agenzia delle Entrate. Un sistema già collaudato in terra campana, secondo i magistrati, nel 2015. In sostanza i fatti riscontrati recentemente dalla squadra mobile in fase di approfondimento dagli uomini, della Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza non hanno fatto altro che sollevare il velo su quella che rappresentava nient'altro che la cellula teatina guidata, secondo l'accusa, dall'imprenditore Morizio Di Biase. Tesi della Procura dunque che tutti i bonifici effettuati tramite F24, grazie ai quali decine di clienti usufruivano di compensazioni non dovute per una truffa all'erario complessivo, lo ricordiamo, di circa 60 milioni di euro, siano partiti dai supporti telematici dello studio Sitoinvia Castellino a Napoli, sede operativa dell'organizzazione. Sta ora il PM incaricato dalla Procura di Napoli a reiterare nei tempi previsti le richieste già avanzate dal collega di Chieti, altrimenti potrebbero decadere le ordinanze di sequestro dei beni. Un passaggio sul quale gli avvocati difensori sono già pronti ad avanzare le loro richieste di revoca delle misure, in qualche caso anche addirittura di archiviazione.